Perché il sindaco e la sua amministrazione vuole liquidare Chiedi Solidare, smantellare i servizi sociali e mandare a casa un sacco di professionalità? Mi imbarazza la sua domanda perché è l'esatto contrario. Questo è quello che dicono i miei oppositori, cioè quelli che hanno ridotto questo comune nella condizione in cui noi siamo costretti ad amministrarlo, cioè con i buchi di bilancio, con i debiti verso fornitori e con una difficoltà oggettiva di portare avanti anche il quotidiano. Vede sentire le parole di chi è stato l'artefice principale di quello che oggi noi troviamo, è stato per davvero un'offesa alla intelligenza ma soprattutto ai tanti cittadini chiedi che hanno deciso con il loro voto di mandarli a casa. Ora abbiamo noi da affrontare la realtà. La realtà ci dice che Chiedi Solidale è una società del comune che funziona ma che ha necessità di essere efficientata perché un carrozzone, l'ho definito così, lo continuo a definire così, costruito dal centro-sinistra e che oggi costa ai cittadini chiedi comunque molto, è un carrozzone che deve essere aggiornato. Non possiamo continuare a non controllare la spesa pubblica, non possiamo continuare a chiedere sacrificio ai cittadini senza poi essere noi per primi attenti a quello che spendiamo in nome per conto dei cittadini. Cosa significa aggiornare? Aggiornare vuol dire che tutti quei servizi che oggi noi eroghiamo attraverso Chiedi Solidale debbano essere resi più efficienti. Questo non vuol dire modificare il piano di zona perché il piano di zona è un piano sovracomunale che viene adottato dal comune dopo alcuni passaggi tra i quali quello del Consiglio Comunale ma vuol dire sicuramente rendere più efficienti quei servizi, più economicamente vantaggiosi per quanto riguarda l'ente. Oggi noi abbiamo una missione importante, ricostruire il programma per il futuro di Chiedi Solidale, creare le condizioni perché Chiedi Solidale possa continuare a prestare assistenza soprattutto a chi ne ha bisogno e ne ha primario bisogno, eliminare dei servizi che servono soltanto per tenere in piedi posti di lavoro assistiti. Cioè invece di prestare assistenza noi assistiamo taluni a ricevere uno stipendio senza motivo. Ecco, quei soldi io preferirei spenderli per chi dobbiamo assistere, cioè per i cittadini.